Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati dal vostro GXNiko Pro 12 Oggi ragazzi come avrete detto ora il titolo giocheremo alla Reverse Challenge Ovvero che dal traguardo ritorneremo all'inizio, vediamo il game quale sarà Ragazzi via! Reverse Challenge, sium, andiamo Andiamo piano che ci dobbiamo qualificare dall'altra parte della mappa E vabbè raga possiamo fare anche così, intanto devo ritornare solamente indietro Spero che i bot ci mettono 70 anni e mezzo a qualificarsi Perché così almeno riesco a qualificarmi io dall'altra parte della mappa Dai che siamo vicini al traguardo Proprio ora si doveva mettere l'ostacolo Ma ragazzi ci siamo qualificati Ed ecco noi il nostro GX12 Mobile Che è lui che ci ha fatto trovare i bot per insomma vincere più facilmente Cioè arrivare dall'altra parte della mappa più veloce Eeeh... Cosa sta succedendo? Raga lobby hacker Non è vero stavo scherzando Via raga Non so che lobby hacker sia Ma io mi provo a qualificare con i bot che mi vengono incontro È molto difficile qualificarsi con tutti i bot che ti vengono incontro Ma mi sa rega che non ci qualifichiamo ovvero dall'altra parte della mappa Se forse facciamo così Via Nooo ci sono qualificati però almeno Buo ragazzi per qualche strana ragione Sono finito in una lobby che non era con GX12 Mobile Ovvero il mio telefono per aiutare Via raga Reverse challenge Ciò possiamo fare Ce la facciamo ad arrivare da Il nostro GX12 Mobile Ce la facciamo? Non lo so vediamo Dovremmo arrivare Io schippo così Oh no 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 Raga mi devo qualificare Mi devo qualificare da GX12 Mobile Eccolo GX12 Mobile Let's go Ti porto via Via Non si fa Ragazzi posso spingerlo? Ma raga cosa devo fare? Eeeeee Ma che cavolo Ma è partito da solo Vabbè ragazzi Spero che questo video vi sia piaciuto Ovviamente sto scherzando Via E si ritorno indietro E si ritorno indietro Che bello Cerchiamo di qualificarci dal nostro GX12 Mobile Che è l'obiettivo mi sembra Attenzione Rischio Doppio rischio Niente Niente Triplo rischio No Raga lo vedo La vedo alla fine Eccolo La nostra bananita La banana Eccolo Eccolo GX12 Mobile Sium Dobbiamo sorpassarlo ogni volta che ci qualifichiamo Quindi abbiamo vinto Che bello Uno Due Tre Andiamo dal nostro Dal nostro amico GX12 Mobile Io passo dalla parte Verde Perché sono un barone Allora Salire sul tronco È difficile Oddio Ma sei Sei botte Oddio no Spero va bene lo stesso Però cavoli I botte hanno superato La parte Quindi Ora sono straforti Dobbiamo superare Il nostro GX12 Mobile E ci qualifichiamo Vai ecco Siamo alla fine No 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 Fermi bot Fermi bot No Corri Sì Abbiamo vinto anche stavolta Abbiamo vinto anche stavolta Sium Mamma mia E partiamo dal nostro GX12 Mobile Andiamo Corri 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 Che posso fare a qualificarmi Dai È poca strada Dai Perché basta che anche faccio così Per qualificarmi Devo Ricordo Devo superare Il nostro amico GX12 Mobile Se non ce la facciamo Beh abbiamo perso la sfida No dai 8 qualificati Ce la posso fare Dai No che no no tchè No 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 Cheat Cheat No no regga Ce la posso fare Dai Le ho Sì Oddio No allora rega non ce l'ho fatta Però rega il double jump Non è partito quindi teoricamente Avrei vinto Però vediamo che abbiamo perso Intanto lasciate like Sotto questo video e se volete una caramella Che ho ora io in questo momento Basta che lasciate un like E vi iscrivete Intanto abbiamo Oh scusatemi Via Ce la possiamo fare Basta che io mi suicido e ritorno qui No no rega sto facendo male Molto male Ce la posso fare Vai citto anche di qui E se tutto va bene forse mi qualifico Basta che faccio ora il trick Al contrario E rega che strano ritornare indietro Ma dai rega è così easy Che siamo ancora a zero qualificati E questa challenge rega La superiamo Ecco l'ultimo ostacolo Dovrebbe essere questo E 3 2 1 Boom Abbiamo Oltrepassato L'X12 mobile Ricordo che è il mio telefono E abbiamo vinto la sfida Visto che il mio tablet Non è da gaming Purtroppo mi devo fermare Solamente a 7 minuti di registrazione Perché se no si surriscalda E mi esplode Andiamo Anche se è uscito Il nuovo jungle roll Devo riandarmi a qualificare Dal nostro Dal nostro Amico Eh Nix12 mobile Solamente che I bot stanno già sorpassando L'aria No basta Bodyblock Ci sono bloccati Mi chiedo il perché Ma io rega Anche se abbiamo già fatto Oh no 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 Dai rega Se la perdo Questa Mi dissocio No dai Basta Perché mi succede sta cosa Ma è buggato No no Rega 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 Questa teoricamente Non dovrebbe valere Perché l'abbiamo già fatta Ma ci qualifichiamo Dai Stai Zoom Abbiamo soppassato Il nostro Nix12 mobile Adesso lo buttiamo Niente Il karma Ferma Bene ragazzi Spero che questo video Vi sia piaciuto Lasciate like Iscrivete al canale E attivate la campanellina E se volete trovare Come cavolo si chiama Supergal Nel giro gratis Perché io lì l'ho trovata Basta che lasciate un bel like E vi iscrivete Da dico è tutto Ciao raga